all'interno dell'area marina protetta allora ragazzi questo motopesco è qua sta dentro facciamo un riscontro con i dispositivi satellitari a bordo vedi che c'è un sacco in alto? Lima 24 da Compa Mare via avanti fermate le macchine fermate le macchine avanti Compa Mare la rete mettiamola a bordo da noi gliel'abbiamo sequestrata la mettiamo a bordo da noi ce la portiamo in tazza gli occhi aperti vediamo se c'è qualche rete qualcosa in acqua qualsiasi segnale qua siamo al centro della secca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti